Buon serata, nuovo appuntamento con il TV giornale di Telestense. Tra le notizie di questa sera vi parleremo dell'ospedale di Kona perché sono sempre più vicini i parcheggi a pagamento e poi andremo sulla cronaca. Alcuni universitari sono stati aggrediti venerdì scorso in centro città. Vi daremo dettagli a riguardo. Sempre parlando di giovani, tra l'altro ci sono nuove multe e di vieti per i titolari di locali che venderanno alcol agli under 18. Ma domani, come sapete, l'8 marzo, noi vogliamo aprire questo TV giornale con una notizia che riguarda proprio le donne e soprattutto quelle che hanno subito violenza. Grazie ad un bando, infatti, il Centro Donne Giustizia ha vinto appunto un bando e per questo sarà in grado di offrire un percorso per le donne che hanno subito violenza che le renda più autonome e quindi siano in grado di prendere le distanze dall'uomo che opera violenza, come dicevamo poco fa. Ma tutti i dettagli li vediamo nel servizio. La sua attività portata avanti da anni nel nostro territorio ha permesso di intercettare risorse ministeriali e per questo il Centro Donne Giustizia di Ferrara per due anni ha messo in piedi una serie di iniziative che serviranno per tutte quelle donne che hanno subito violenza e per uscire da questo tunnel devono diventare autonome nel lavoro e anche nell'alloggio per viverci magari con il proprio figlio. Così la rappresentante del centro, Paola Castagnotto, oggi, il giorno prima dell'8 marzo, ricordando che nel 2016 ci sono state 20 donne in più rispetto al 2015 che hanno subito violenza ha illustrato che cosa riuscirà a fare il centro che opera in partnership con i comuni di Ferrara, Cento, Comacchio e Codigoro. Fra le azioni più importanti c'è la possibilità ora di tenere aperto il servizio anche nei weekend e infatti nei fine settimana che spesso si consuma la violenza sulle donne. Riuscire ad avere un centro che sta aperto dal lunedì alla domenica con orari è una risorsa importante perché vuol dire che soprattutto il sabato e la domenica dove succedono in genere le tragedie ed è molto difficile trovare le reti attivate questa è una risorsa. L'opera più importante che il centro porta avanti è sicuramente quella di attivare il progetto verso l'autonomia, ovvero l'autonomia dal mostro ma per fare questo serve un aiuto per trovare un lavoro e per trovare un luogo dove vivere ecco perché il centro ha aperto lo sportello orientamento al lavoro. 35 donne che hanno con sistematicità nel 2016 lavorato con lo sportello di orientamento al lavoro del centro donna giustizia 27 hanno lasciato il maltrattante che prima non erano capaci di lasciare vuol dire che hanno ritrovato non solo fiducia in se stessa ma anche delle possibilità di poter farcela da sole. Ma una donna non è completamente libera se non ha anche un'autonomia abitativa finita la fase di emergenza che prevede l'assistemazione della donna in alloggi segreti a disposizione del centro il progetto prevede anche un'assistenza alla semi-autonomia abitativa. Accordi con gli affittuari, ricerca di immobili che magari gli enti locali usano per altre destinazioni immobili a volte donati, immobili dati come è stato per cento noi abbiamo avuto un cittadino generosissimo che ha chiesto di rimanere nell'anonimato che ci ha dato un appartamento nuovo di zecca per tre anni incomodato d'uso gratuito destinato ad accogliere donne. Le risorse permettono inoltre di potenziare il servizio anche in provincia da poco nel Delta ha aperto lo sportello Iris che servirà i comuni di Comacchio e Codigoro. E proprio Paola Castagnotto che avete appena sentito lancia un messaggio a tutte le donne in occasione dell'8 marzo. Sentiamo. Il 8 marzo è la giornata di mobilitazione sui diritti delle donne, non c'è niente da festeggiare perché ormai lo sappiamo, anzi abbiamo dei diritti sui quali stiamo tornando indietro. C'è la donna veneta che ha dovuto girare 23 ospedali per trovare qualcuno che applicasse una legge dello Stato come la 194, cioè per interrompere una gravidanza perché tutti incontrava solo luoghi pieni di obiettori di coscienza, quella donna lì non festeggia domani, c'è solo della gran rabbia. Il messaggio è uno dei messaggi forti, ritrovare la forza per scrivere un nuovo manuale, noi lo chiamiamo femminista. Cioè è ora di riscrivere delle parole che parlino di uscita dalla violenza, di eguaglianza salariale, di antidiscriminazione, di diritto alla salute in un modo che oggi non può più né in Italia come negli altri paesi andare avanti. E rimaniamo sempre sulla festa della donna perché domani il personale della questura di Ferrara sarà in piazza Trento Trieste per tutta la mattinata con un camper in cui le ferraresi potranno informarsi. La polizia di Stato in questo modo dunque vuole stare vicino alle donne. Vediamo i particolari. Una chiamata alle forze dell'ordine può salvare la vita. Questo è il senso del video voluto dalla polizia di Stato e che racconta la vicenda di una donna vittima di violenza. E proprio l'8 marzo anche la questura di Ferrara vuole essere vicina alle donne con il progetto Questo non è amore. Dalle 9 e un quarto alle 13 il camper della Croce Rossa italiana sarà presente in piazza Trento Trieste sul listone. Qui il personale della squadra mobile dell'ufficio minori della questura sarà presente insieme a psicologi e mediatori, per la maggior parte donne, per incontrare quelle persone che vorranno informarsi in maniera informale su come ci si protegge dalle violenze. Obiettivo della Polizia di Stato rompere l'isolamento e il dolore delle vittime della violenza di genere. Parliamo a questo punto di imprenditoria al femminile. La Camera di Commercio rafforza le funzioni del Comitato per l'imprenditoria femminile guidato da Gisela Ferri, imprenditrice affermata nel settore della progettazione e della costruzione di decespugliatrici idrauliche. Un comitato che negli ultimi tre anni ha registrato 14 nuove imprese avviate, 480 aspiranti imprenditrici formate, 21 aziende digitalizzate, 23 richieste di accesso al credito andate a buon fine. Il comitato che funzionerà fino all'accorpamento degli enti camerali per il 2017 ha in programma diversi progetti, fra i quali il bando per le imprese femminili innovative. E appare ormai imminente la trasformazione a pagamento dei parcheggi intorno all'ospedale di Cona, come dicevamo in apertura. Il Comune di Ferrara ha ricevuto un progetto formulato dal Consorzio Progeste che gestisce i cosiddetti servizi no core dell'ospedale. Vediamo. I parcheggi a pagamento intorno all'ospedale di Cona sono ormai un'imminente realtà. Da qualche settimana infatti negli uffici comunali è arrivato un progetto di Progeste, il Consorzio di imprese che fornisce all'ospedale cittadino i servizi cosiddetti no core, cioè non strettamente legati all'attività sanitaria. Il progetto prevede la trasformazione a pagamento di 1.337 posti auto, 471 nel parcheggio 1 che fronteggia l'entrata principale del reparto d'agenze, 699 nel parcheggio 2, quello degli ambulatori, gli altri posti tra parcheggio coperto, area dialisi, pronto soccorso. Il sistema di pagamenti, di cui non sono ancora note le tariffe, verrà gestito tramite un sistema di sbarre e casse automatiche, in gran parte già predisposto, ma non mancherà mai il presidio di operatori in carne e ossa che avranno, per esempio, la funzione di tutelare i diritti dei disabili, dei dializzati, dei familiari di persone che accedono al pronto soccorso e altre categorie che, per legge o per buon senso, sono esentate dal pagamento dei parcheggi e hanno diritto a posti auto riservati o comunque gratuiti. Il progetto del Consorzio Progeste è stato inviato al Comune per ottenere un parere di conformità alle normative. In realtà l'amministrazione comunale non ha una vera e propria giurisdizione sui futuri parcheggi a pagamento proprio perché verranno istituiti su un'area di proprietà privata dell'ospedale. L'unica materia su cui può intervenire è quella del rispetto dei diritti, come accennavamo un istante fa, delle persone disabili. Il parcheggio sarà a pagamento dalle 6.30 alle 20.30. Negli altri orari le sbarre di entrata rimarranno alzate e si può entrare e uscire liberamente. Il Consorzio Progeste ha contribuito per oltre 40 milioni alla realizzazione dell'ospedale di Cona sulla base di un project financing che prevedeva che quei soldi venissero recuperati attraverso l'erogazione di servizi. Tra quei servizi è compreso anche il parcheggio a pagamento. Fino ad ora la tarifazione dei parcheggi era stata comunque evitata o posticipata. Ora il momento sembra arrivato davvero. Non è tutto. Un ulteriore progetto, questo dell'azienda ospedaliera, prevede la realizzazione di 180 posti l'auto accanto all'area di atterraggio dell'elisoccorso. Non saranno a pagamento, saranno riservati al personale e sgraveranno parzialmente il parcheggio 6 in vista dell'arrivo a Cona, ormai prossimo, del centro di riabilitazione San Giorgio. La cronaca adesso nel nostro TV giornale. Vi parliamo di 10 studenti universitari vittime di un'aggressione verbale e fisica in pieno centro storico a Ferrara. E quanto sarebbe successo venerdì scorso? A denunciare l'episodio è stato Alessandro Balboni, consigliere degli studenti dell'Ateneo Ferrarese e neoconsigliere di Fratelli d'Italia all'opposizione in Consiglio Comunale. La violenza sarebbe stata caratterizzata da insulti, sputi, urla e spinte e i tre aggressori avrebbero minacciato gli universitari con una bottiglia rotta e un coltello a serramanico. Balboni poi dice di aver ricevuto segnalazioni da studenti pendolari, soprattutto studentesse, su molestie e aggressioni subite la mattina presto o la sera tardi. Per il consigliere è indispensabile che Ferrara si scrolli di dosso questo buonismo e l'amministrazione comunale prenda provvedimenti. Rimaniamo sempre sui giovani ma parlando di un nuovo divieto in vigore da qualche giorno, divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche agli under 18, ricordiamo che prima era per gli under 16. Molte salate per i gestori dei locali. Un passaggio storico è il commento che arriva da Ascom. Vediamo. Migliaia di attività ferraresi sono interessate dal nuovo decreto legge che alza da 16 a 18 anni l'età sotto la quale non può essere venduto e somministrato alcol. È già in vigore dal 20 febbraio il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni 18, un passaggio importante e storico, dice il ferrarese Matteo Musacci, presidente regionale della Fipe Confcommercio. Prima infatti il divieto riguardava solo la vendita ai minorenni, punendo penalmente la somministrazione per gli under 16. In pratica finora un pubblico esercizio poteva comunque somministrare alcolici a chi avesse tra 16 e 18 anni. Adesso invece il divieto a carico dell'esercente è stato esteso in pieno alla somministrazione per qualunque minorenne. Salate le multe che vanno da un minimo di 250 ad un massimo di 1000 euro, cifre che aumentano ulteriormente se fosse riscontrata una violazione ripetuta. Musacci inoltre sostiene che la Fipe regionale provvederà a fornire a tutte le attività dei settori coinvolti la cartellonistica giornata e, conclude il presidente, crediamo sia necessario realizzare percorsi informativi per gli operatori, così come la sensibilizzazione verso i ragazzi nel mondo della scuola. A questo punto cambiamo argomento, ci occupiamo di edilizia perché cala limmo sulle aree edificabili e calano gli oneri di urbanizzazione soprattutto in centro storico. È risultato di una revisione dei valori catastali del territorio comunale portata a termine dalla giunta comunale di Ferrara. Vediamo. La delibera arriverà in consiglio entro la fine del mese per l'approvazione definitiva. Il comune di Ferrara ha ricalcolato i valori delle aree edificabili del territorio comunale rendendoli più coerenti con i valori di mercato e questo produrrà in primo luogo una modifica al ribasso dei valori dell'Imu. I valori delle aree fabbricabili calano mediamente dell'11,8% perché abbiamo messo in piedi una revisione complessiva dei valori delle aree di tutto il comune di Ferrara, ovviamente aree fabbricabili che non sono più in centro storico, però dove ci sono il cittadino mediamente avrà questo beneficio di base imponibile e quindi di minore imposta. È un dato medio per cui c'è qualche area che si rivaluterà di poco, qualcun'altra che calerà un po' di più dell'11,8% però l'effetto medio è questo. La riduzione dei valori di Imu porterà con sé anche una riduzione degli oneri di urbanizzazione monetizzati, vale a dire le somme che vengono versate al comune dalle aziende di costruzione come corrispettivo di opere di fabbricazione o più spesso di ristrutturazione. In centro storico si parla di riduzioni tariffarie davvero sensibili. In parole molto povere, se io voglio ristrutturare un piccolo edificio, un monolocale in centro storico, quanto risparmia? In parole molto povere, anche un cambio d'uso senza opere, quindi anche senza una ristrutturazione, ma tutte quelle operazioni che prevedono un riuso, soprattutto in centro storico perché le monetizzazioni ci sono quando non c'è la possibilità di dare delle superfici per standard pubblici, quindi si monetizza questa necessità. Prima avevo delle tariffe al metro quadro, un centro storico 245 euro al metro quadro, dalla delibera di giunta, dalla sua approvazione, sarà la metà, sarà 140 euro al metro quadro, un po' su tutte le zone di tutto il territorio. E torniamo sulla cronaca perché si è spento nei giorni scorsi all'età di 94 anni Giancarlo Musi, decano dei giornalisti ferraresi. Aveva cominciato la carriera negli anni 50 alla Gazzetta Padana, passando poi al Corriere della Sera ed infine al resto del Carlino come capocronista di Bologna ed inviato. Fra le sue più celebre inchieste, quella sullo scandalo finanziario di Gian Battista Giuffré, detto il banchiere di Dio, firmò anche una famosa inchiesta su uno dei primi scandali dei medicinali in Italia, ma si occupò anche dell'alluvione del Polesine del 1951 e di alcuni dei più gravi episodi dei cosiddetti anni di piombo. È stato cronista di Nera e autore di diversi libri e per tutta la vita ha coltivato la passione per l'aeronautica. Cambiamo argomento, si terrà il primo aprile alla sala congressi della Fiera di Ferrara, edizione 2017 della giornata della fedeltà al lavoro e al progresso economico. I particolari nel servizio. Saranno 112 i riconoscimenti che verranno assegnati il primo aprile nell'ambito della giornata della fedeltà al lavoro e al progresso economico, edizione 2017, organizzata come ogni anno dalla Camera di Commercio di Ferrara. È una cerimonia che si tiene da oltre mezzo secolo e che punta a premiare coloro che per tutta la vita hanno privilegiato i valori del lavoro e dell'iniziativa imprenditoriale, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico del territorio. 112 riconoscimenti, di cui 29 a lavoratori dipendenti che hanno operato per oltre 35 anni e 63 a imprenditori, 25 dell'artigianato, 18 del commercio, 16 dell'agricoltura. La cerimonia si terrà alla sala congressi di Ferrara Fiera in mattinata e sarà ripresa integralmente, come ogni anno, da Telestense. I premiati saranno molti di diverse generazioni, sottolinea Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio di Ferrara, imprenditori, capi d'azienda, lavoratori testimonial del modello Ferrara, inteso nel senso più ampio che comprende il grande patrimonio culturale, un modo peculiare di fare impresa, la capacità di essere solidali e di cogliere le opportunità del cambiamento. E a proposito di lavoro, vi parliamo a questo punto di un nuovo sportello di consulenza e supporto ai lavoratori freelance e a partita IVA. Ora è presente anche a Ferrara e nasce da una collaborazione tra ACTA, associazione di professionisti indipendenti, e consorzio Wunderkammer. Nata nel 2004, ACTA è un'associazione senza fini di lucro dei consulenti del terziario avanzato, che tutela le nuove realtà di lavoro autonomo sempre più presenti e diffuse in Italia. Vi aderiscono tra gli altri ricercatori, formatori, informatici, designer, grafici e altri professionisti che operano nei settori creativi e delle nuove tecnologie. L'ufficio, ricordiamo, che ha sede a Banco il Coworking, presente già dal 2014 a Wunderkammer di Ferrara, ed attivo ogni secondo mercoledì del mese, quindi nel caso di marzo già domani, mercoledì 8, dalle 10 alle 12 del mattino. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di gastronomia tipica, in particolare di caviale, che è una ricetta ferrarese che viene esportata in tutto il mondo. La scopriamo in questo servizio. È una ricetta che risale al Ducato Estense, che viene ritrovata in America nei primi anni del Novecento, che oggi rivive grazie a Cristina, unica depositaria della ricetta del caviale cotto. Nel suo agriturismo arunco tra Ferrara e il mare, Cristina lo prepara e lo distribuisce in tutto il mondo doveva competere con quelli più blasonati. Questo rione Cooperara è un legame inscindibilmente forte, perché si è sempre pescato, nei secoli, nei millenni, indietro, ed era molto importante per la popolazione, essendo un pesce grosso ed avendo una varietà di ricette con cui fare le cose, con la sua carne, con il suo interiore, con la sua testa, con il suo fegato, con tutto. Quindi abbiamo delle ricette per i poveri pescatori, per i ricchi signori di città la carne e per il principe le uova. Quindi importantissimo il pesce con la popolazione intorno al fiume Po e Ferrara, che era una città molto importante, quindi questo pesce è sempre pescato, cercato con preoccupazione e con gioia quando si prendeva. Dico perché è cotto in questo modo, lo cuociamo solo qui, nel mio forno, nella mia cucina, nel mio forno. Siamo anche autorizzati dal ministero, molto importante, per poterlo vendere al di fuori di questo piccolo ristorante, perché appunto le uova di storione sono una cosa molto particolare. È molto buono perché si manterrà a lungo, ma a parte questo, perché è molto, cioè si può gustare veramente il suo sapore, al di fuori del fatto che è di pesce, perché non a tutti piace il caviale normalmente che si può comprare in commercio, proprio perché sa di pesce e anche i conservanti che mettono all'interno per mantenerlo danno un sapore. La ricetta è unica al mondo e solo lei riesce a produrlo e a farlo assaggiare a pochi selezionati appassionati. La cottura, che è una cottura molto particolare, molto difficile, bisogna stare molto attenti e soprattutto bisogna guardarlo. Ecco il segreto del caviale ferrarese è la cottura e guardarlo. Ecco la ricetta è rimasta segreta nel lungo questi secoli, è rimasta segreta tramandata di padre in figlio. Sei l'unica che ce l'ha adesso? Adesso sì. E sei l'unica che lo produce? Esattamente, sono l'unica che lo fa e che lo produce, perché cuocere le uova, bisogna appunto sapere le cuocere perché altrimenti ti diventano dei pallini al schiopo, diventano dure come il piombo. E dalla cucina tipica passiamo a questo punto al cinema, perché è in programmazione in questi giorni il film Caro Lucio ti scrivo, dedicato a Lucio Dalla, girato tra l'altro anche in provincia di Ferrara. Sabato scorso, durante Match, sono stati ospiti il regista Riccardo Marchesini e gli attori Cristina Casale e Vincenzo Iannuzzo. Li sentiamo nel servizio. Il 4 marzo 1943 nasceva Lucio Dalla e al noto cantautore bolognese è stato dedicato in questi giorni il film Caro Lucio ti scrivo, una produzione indipendente in programmazione in oltre 100 sale in tutta Italia, realizzato grazie alla regia di Riccardo Marchesini che insieme all'attrice Cristina Casale è stato ospite sabato scorso di Telestense. Nasce fondamentalmente dalla passione per Lucio Dalla, una passione che ho in comune con l'autore e con un giornalista che si chiama Cristiano Governa, uno scrittore e giornalista che si chiama Cristiano Governa, con il quale stavamo lavorando ad altri progetti e a un certo punto abbiamo pensato che si poteva immaginare uno spettacolo teatrale che avesse al centro le canzoni di Lucio. Abbiamo lavorato su questo testo, soprattutto lui, poi l'abbiamo messo in scena e ci ha dato delle soddisfazioni, anche lo spettacolo teatrale si chiamava Caro Lucio ti scrivo, era uno spettacolo molto intimo, c'era un'unica attrice e un pianista e un cantante e da lì, appunto, guardando lo spettacolo teatrale, immaginando quello che in teatro si poteva soltanto raccontare, ci è venuta voglia di trasformarlo in un film e così fortunatamente è stato. Tu Cristina che ruolo hai esattamente? Sono Maria dell'episodio della Casa in Riva al Mare, una delle canzoni più vecchie prese in esame in questo contesto che è del 1971 e l'hanno immaginata un po' come è una pescivendola e l'ambientazione infatti è stata anche per questo scelta Comacchio, una città che si basa anche su questa bellissima professione, in quanto anche per noi essere andati lì sul set e toccare con mano veramente quello che sono i lavori di un tempo è stato particolarmente interessante. Per quello che riguarda il casting e il ruolo in cui mi sono trovata, posso solo dire che ho partecipato a un casting come tutti gli altri e non mi aspettavo mai di essere presa per un ruolo così bello e soprattutto protagonista di una canzone di Lucio Dalla, anche se c'è un cambio di prospettiva perché nella canzone in realtà è il carcerato che si innamora di questa donna che vede dalla finestra della sua casa bianca, in questo caso il cambio di prospettiva prevede le emozioni e i sentimenti di questa donna Maria che si innamora e spera attraverso le sue sbarre guardando quelle di una prigione. E ricordiamo che sul sito internet del film potete trovare appunto gli orari di programmazione. Siamo in chiusura, invece vi ricordo un altro sito, il nostro, ovvero telestense.it per seguire queste e altre notizie e anche l'invito a condividerci con i vari social network Facebook, Twitter e YouTube. Grazie dunque ancora una volta per aver seguito il nostro TV giornale e appuntamento alla prossima edizione.